Bimbo in Viaggio.com premia anche quest'anno i migliori hotel per famiglie. Si è conclusa la seconda edizione dei Bimbo in Viaggio Awards 2018 che si è tenuta il 23 ottobre scorso al Melià Hotel Milano con l'Italia e l'Austria che si riconfermano protagoniste dell'ospitalità per famiglie con eccellenze che dominano il panorama internazionale. Bimbo in Viaggio.com, leader in Italia nella selezione delle migliori strutture per famiglie, ha premiato le strutture che nel corso del periodo settembre 2017-settembre 2018 hanno ottenuto il maggior consenso da parte delle famiglie italiane. Indicatore del consenso è il numero di richieste di preventivo pervenute alle strutture tramite la piattaforma Bimbo in Viaggio. Le tre categorie premiate sono Preferred Family Hotel 2018 e sono state le 12 strutture più richieste dai clienti di Bimbo in Viaggio attraverso il portale, Excellent Family Resort 2018, i quattro migliori resort premiati dal team di qualità di Bimbo in Viaggio per l'alta qualità dei servizi offerti alle famiglie, Excellent Family City Hotel 2018, la miglior struttura in città in termini di qualità dei servizi offerti sempre secondo il team di qualità di Bimbo in Viaggio. Siamo ai Bimbo in Viaggio Awards e qui premiamo gli hotel eccellenti per quel che riguarda l'erogazione dei servizi alle famiglie con bambini. Abbiamo qui il signor Iaro Ratai che è responsabile dell'Allegria Resort in Austria al quale con piacere vorrei chiedere di dirci in maniera così frizzante e sintetica quelli che sono i punti di forza di questa bellissima struttura veramente ideale per le famiglie. Grazie, prima di tutto siamo veramente felici e stracontenti di questo premio, ci fa veramente, siamo onorati. Devo dire che questo premio è un riconoscimento del nostro lavoro, dei nostri collaboratori, della nostra ospitalità e soprattutto anche italianità che abbiamo portato proprio a Burgenland. Burgenland è una zona bellissima vicino a Vienna, è anche il nostro resort, si trova sulle coline del sud Burgenland, abbiamo 300 giorni soleggiati. Il punto di forza è sicuramente la nostra ospitalità, poi le terme family che sono uniche del suo genere, abbiamo due sorgenti, 14 piscine, naturalmente tutti attrazioni per i bambini, per le famiglie, parco giochi esterno, allora quasi su 7.000 metri quadri e naturalmente anche la cucina regionale. Qui abbiamo più di 100 fornitori e producenti della regione e puntiamo sempre sulla qualità. Grazie, io ci sono stata, noi visitiamo le strutture che abbiamo e presentiamo sul portale, devo dire che è veramente un paradiso, la zona delle piscine è divertentissima, c'è anche la piscina con le onde, c'è il Crazy River, c'è la sauna per famiglie dove si può andare con i bambini, quindi è veramente un'eccellenza, un posto da visitare. Vorrei chiedere a Bettina del Biondi Hotels di Cesenatico, quali sono le esigenze delle famiglie italiane in vacanza? Allora, noi notiamo che viene apprezzato il nostro programma proprio giornaliero, che ormai ci devono essere delle attività mattina, pomeriggio, sera, sia che i bambini, anche proprio per i più grandi cieli e per gli adulti, perciò anche noi ci impegniamo di fare sia in spiaggia delle attività, poi abbiamo un terrazzo panoramico, cerchiamo anche di fare delle cose originali, per esempio imparano le stelle, facciamo laboratorio dove imparano a fare la piadina, insomma cose locali, dopo è importante sempre la baby dance, la sera vogliono muoversi, questi bambini possono mangiare con gli animatori, tutte queste cose, insomma, vengono molto apprezzate. Certo, sì, i bambini sono sicuramente sempre più dinamici, apprezzano proprio quelle strutture dove possono trascorrere il tempo in allegria, conoscendo altri bambini, facendo altre attività e, come ha detto la signora Bettina, appunto laboratori, sport, baby dance, quindi diciamo attività, movimento, allegria, cose che a volte a casa, in inverno, durante l'anno non riescono a fare con quella stessa libertà. Siamo qui con il signor Duino dell'hotel La Storia di Andalo, che ha ricevuto da Bimbo in Viaggio tantissime richieste, quindi si tratta di un hotel apprezzatissimo dai nostri clienti, dai nostri lettori. Andalo del resto è una località molto adatta alle famiglie, ma chiediamo direttamente al signor Duino di dirci quali sono i punti di forza della struttura e della località. Grazie, soprattutto grazie di questo premio, un riconoscimento veramente che ci fa molto onore. Noi serviamo le famiglie, abbiamo un servizio a 360 gradi, partendo dai bimbi più piccoli fino ad arrivare agli junior. Ecco, Andalo è una località che si è contraddistinta per tanti programmi per bambini e lo sci è molto divertente, e iniziare a sciare ad Andalo è davvero una cosa utile, perché ci sono dei programmi specifici. Sì, ormai Andalo si è spostato su questo target di famiglie, consideri che noi collaboriamo con una scuola di sci che fa scuola solo ai bambini. Questo vuol dire una specializzazione, un modo di insegnare ai bambini in maniera veramente coinvolgente per loro, in maniera di riuscire in un giro di una settimana a portarli a essere autosufficienti sullo sci e soprattutto a fargli passare, come dicevo prima, una bella vacanza anche con i genitori, perché la mattina magari si scia, al pomeriggio si passa magari con i genitori in hotel o usufruendo di tutti i servizi che Andalo offre. L'Italia rimane una delle mete preferite dalle famiglie italiane, secondo quanto emerso dall'analisi dell'osservatorio. Le regioni più richieste dalle famiglie che seguono Bimbo in viaggio sono state nell'ordine Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Sicilia. Sette giorni la durata media del soggiorno richiesto e 3,9 persone la composizione media della famiglia. Il fascino dell'Italia non tramonta gli occhi degli italiani e viene anzi amplificato dai social che valorizzano le bellezze del nostro paese. Già lo scorso anno è stato brillante per il turismo italiano, più 5,9% i pernottamenti, quasi un punto in più rispetto alla media europea. Come fa un genitore a trovare un hotel o un villaggio che abbia davvero a cuore i bisogni e i desideri dei suoi figli? Internet consente di trovare un gran numero di informazioni, ma dal 2007 esiste per i genitori un portale speciale che li aiuta nella scelta della struttura giusta per fare vacanze serene e divertenti con tutta la famiglia. Il portale, molti di voi già lo conoscono, si chiama bimboinviaggio.com e raccoglie più di 380 fra alberghi, villaggi, campeggi e agriturismo sia in Italia che all'estero, attrezzati per soddisfare le esigenze delle famiglie con bambini e ragazzi. Negli alberghi e più in generale nelle strutture selezionate da bimboinviaggio.com, scaldare una pappa, preparare un biberon, trovare a ristorante brodi vegetali, pastine e carni bianche per i menù dei piccoli non è un problema. Lettini e fasciatoi non mancano mai. Molte strutture dispongono di attrezzatissimi mini club, piscine indoor e outdoor, intrattenimento e animazione con giochi all'aperto e tantissimo sport per i più grandi. Tutte queste attenzioni sono offerte con l'obiettivo di far divertire i figli di varietà e dare un po' di libertà ai genitori. Il portale di facile e immediata consultazione permette di scegliere il paese e la regione a seconda che si preferisca una destinazione montana, marina, di campagna ma anche perché no una città d'arte. In ciascuna regione si trova un numero interessante di strutture ricettive, le sezioni parchi e musei completano le informazioni con spunti e idee su cosa fare nella località prescelta. Per essere sempre aggiornati sulle novità, una buona idea è iscriversi gratuitamente alla newsletter Bimbo in Viaggio Informa. Si riceveranno al proprio indirizzo email, le offerte, i pacchetti scontati e tutte le opportunità che via via bimboinviaggio.com mette a punto per i genitori e le famiglie che amano organizzare le vacanze in piena libertà e autonomia.